Non aver paura dei fallimenti e imporre regole per l'uso dei social network. Questo è il concetto che i genitori devono trasmettere ai propri figli, un consiglio prezioso arrivato nell'ultimo appuntamento di genitori adolescenti nell'epoca di internet e del narcisismo, un ciclo di tre incontri nell'ambito del piano adolescenza organizzato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'Istituto Minotauro di Milano. Molti amici e nuovi amori, il titolo dell'evento conclusivo tenuto al centro per le famiglie della Galleria del Sole, con la psicoterapeuta dell'Istituto Minotauro Loredana Cirillo che ha indagato sui temi dell'irresistibile bisogno di amicizia il gruppo, l'amore e la sessualità. Si tratta di ragionare insieme ai genitori di quelle che sono le problematiche più importanti oggi nella genitorialità degli adolescenti, sono proprio legate alla gestione che i nuovi ragazzi fanno delle amicizie, dell'amore. Oggi questi aspetti hanno valori del tutto inediti, diversi dal passato. Oggi i ragazzi amano molto essere visibili, hanno bisogno di contatti costanti, di relazioni con i coetanei come mai prima era stato nella storia dell'uomo. Quali consigli possiamo dare ai genitori e come parlare soprattutto ai loro figli? Bisognerebbe come dire che i genitori riuscissero un po' di più a introdurre il concetto di fallimento, di disagio, di difficoltà, cioè poter dare degli spazi di parola ai ragazzi su questi aspetti perché molto più spesso si tende a parlare di successo, di buona riuscita, di prestazione, di performance e si fa un po' fatica a tollerare che ci siano invece delle difficoltà, che il proprio figlio non sia per forza felice, non sia per forza realizzato, capace di raggiungere alti traguardi. Grazie. 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 Grazie.